Questa è la finale d'Italia's Got Talent, un momento unico, culminante. Ed è per questo che siamo qui, all'Avenger Campus, il quartier generale degli Avengers. Il posto più eroico del mondo. Guardate, ci sono pure Iron Man, la vedova nera. Cioè loro qui lavorano, si incontrano, pianificano la prossima missione. Dicono, come salviamo il mondo? Frutti! Giusto. Siamo qui per ricordarvi che avete una missione. Salvare il talento! Mara, avrai un bip col quale potrai dire tutto quello che vuoi. Ineluttabile! Tutto, tutto, tutto posso dire. Fantastico! Cabby, acquisirai un numero infinito di gesti da fare con le mani. Imprevedibile! Frank, la tua forte risata sarà una risata ultrasonica. Inarrestabile! Elettra, sarai elettrica. Esatto. Giudici! Ora siete pronti per la vostra missione finale! mild. ... !? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti